La valeriana, conosciuta anche come valerianella o formentino, è una pianta officinale erbace, annuale o biennale appartenente alla famiglia delle valerianacee, originaria del territorio mediterraneo e in modo particolare della Sardegna e della Sicilia. Attualmente è diffusa in tutte le zone al clima temperato. Si presenta come un cespuglietto privo di stero con foglie a forma di spatola di color verde brillante e lunghe una decina di centimetri. Nei mesi tardo-primaveri riproduce uno stero fiorare diramato in vari mazzetti di piccoli fiori color bianco-azzurro. Il frutto dell'insalata valeriana è un acenio grigio dalla superficie liscia. L'insalata valeriana può essere facilmente coltivata poiché non necessita di accorgimenti particolari, resiste brillantemente sia in pianura che in montagna e predilige i terreni soleggiati, ben drenati e azottati. Può completare lo sfruttamento del territorio utilizzato per le patate. La valeriana ha un apporto energetico molto ridotto e la sua funzione nutrizionale è di aumentare principalmente gli apporti di fibra, sali minerali, vitamine con concentrazione di vitamina A, vitamina C, vitamina E e acido forico. Contiene olio essenziale con effetto antispastico rilassante per il sistema nervoso. Vale poi tratti con proprietà sedattiva. La pianta ha un notevole potenziale tranquillante. Viene generalmente usata per combattere i disturbi del sonno, ma può essere determinante anche nei casi di attacco, di panico e angoscia e per alleviare i dorodi addominali e le irritazioni del colon e per regolarizzare il funzionamento del sistema nervoso centrale, specialmente quando un soggetto manifesta palesemente stati d'ansia, tale da compromettere il benessere di una persona o alterare il suo ritmo cardiaco. La valeriana può essere considerata un rimedio omiopatico e per questo motivo è reperibile in commercio senza particolari vincoli. Il suo acquisto non è soggetto a prescrizione medica ed è necessario attenersi alle istruzioni riportate dal foglietto illustrativo per comprendere le modalità di assunzione. La valeriana sarebbe un possibile rimedio contro l'epilissia in quanto capace di alleviare gli spasmi muscolari ed efficace per combattere l'isteria e gli stati di ansia in generale, oltre che le nevralgie e le coliche nervose. L'impiego culinario dell'insalata valeriana, giovane e prediletto crudo, per la dolcezza e la delicatezza del sapore che è saltata in padella, meglio quindi non eccedere con le spezie e gli aromi come pepe e aglio. Inoltre in entrambi i casi si consiglia l'utilizzo di un orio extravergine di oliva delicato. La valeriana si conosce fin dai tempi più antichi e nel Medioevo si dice che Fabio Corona, un famoso scienziato del 1500, abbia curato l'epilissia grazie a questa pianta.